Quale potrebbe essere questo fondamento, questo terreno su cui stabilire in futuro le proprie radici? Forse ciò che cerchiamo con questa domanda si trova già vicino a noi, tanto vicino che neppure ce ne accorgiamo. Per noi uomini, infatti, la via che conduce a ciò che è vicino risulta sempre la più lunga e quindi la più difficile da percorrere. Questa via è una via del pensiero. Il pensiero meditante richiede da noi che non restiamo attaccati in maniera unilaterale ad un'unica rappresentazione, che non curiamo sempre più oltre su un unico binario, nell'unica direzione in cui ci costringe una rappresentazione. Il pensiero meditante richiede da noi che ci lasciamo ricondurre a ciò che in sé, a prima vista, appare inconciliabile. Proviamo a fare l'esperimento, risultato. Gli impianti, le apparecchiature, i macchinari che caratterizzano il mondo della tecnica risultano oggi per tutti noi, per alcuni di più, per altri di meno, indispensabili. Sarebbe folle slanciarsi ciecamente contro il mondo della tecnica. Sarebbe mio per condannarlo in blocco come opera del diavolo. Oramai dipendiamo in tutto dai prodotti della tecnica. Siamo costretti senza tegua a perfezionarli sempre di più. Essi ci hanno, per così dire, forgiati a nostra insaputa e così saldamente che ne siamo ormai schiavi. Tuttavia possiamo anche comportarci altrimenti. Possiamo infatti far uso dei prodotti della tecnica e nello stesso tempo, in qualsiasi utilizzo che ne facciamo, possiamo mantenercene liberi, così da poter in ogni momento farne a meno. Possiamo far uso dei prodotti della tecnica, conformarci al loro modo di impiego, non possiamo allo stesso tempo abbandonarli a loro stessi, considerarli qualcosa che non ci tocca intimamente e autenticamente. Possiamo dir di sì all'uso inevitabile dei prodotti della tecnica e nello stesso tempo possiamo dire loro di no, impedire che prendano il sopravento su di noi, che il deformino confondano, devastino il nostro essere. Ma, se diciamo allo stesso tempo sì e no ai prodotti della tecnica, il nostro rapporto al mondo della tecnica non diventerà forse ambiguo e incerto? Niente affatto. Il nostro rapporto al mondo della tecnica diventerà invece semplice e sicuro. Si tratterà infatti di lasciare entrare nel nostro mondo di tutti i giorni i prodotti della tecnica e, allo stesso tempo, di lasciarli fuori, di abbandonarli a se stessi come qualcosa che non è nulla di assoluto, ma che dipende ad esso stesso da qualcosa di più alto. Vorrei chiamare questo contegno che dice al tempo stesso sì e no al mondo della tecnica con un'antica parola. In questo modo riusciamo a non vedere più le cose soltanto dal punto di vista della tecnica. Vediamo finalmente chiaro e riconosciamo che la produzione e l'uso delle macchine esigeno da noi un altro rapporto alle cose che, non di meno, ha un suo senso. Vediamo, ad esempio, l'agricoltura e l'economia rurale far uso di macchinari trasformandosi in industria alimentare. Che qui, come anche in altri campi, abbia luogo una profonda trasformazione nel rapporto dell'uomo alla natura e al mondo. È oramai un dato di fatto. Resta tuttavia ancora oscuro quale senso opera in questa trasformazione. Ogni processo tecnico è governato da un senso che attraversa e coinvolge l'agire e il consentire dell'uomo. Un senso che l'uomo ha inventato e creato. Noi non sappiamo a che cosa porterà il dominio della tecnica atomica che si sta estendendo in maniera sempre più inquietante. Il senso del mondo della tecnica si cera. Se però teniamo sempre ed espressamente conto che, dopo tutto, nel mondo della tecnica ci viene incontro un senso nascosto, allora subito ci troviamo nell'ambito di ciò che a noi si cera. E si cera proprio mentre a noi perviene. Ciò che in questo modo si mostra e allo stesso tempo si ritrae, è il tratto fondamentale di ciò che chiamiamo il mistero. Il modo in cui ci teniamo aperti al senso della tecnica, lo chiamiamo l'apertura al mistero. L'abbandono di fronte alle cose e l'apertura al mistero si apportano l'uno all'altro. Essi ci offrono la possibilità di soggiornare nel mondo in un modo completamente diverso. Ci permettono un nuovo fondamento, un nuovo terreno su cui poterci stabilire, su cui poter sostare senza pericolo all'interno del mondo della tecnica. L'abbandono di fronte alle cose e l'apertura al mistero ci permettono di intravedere la possibilità di un nuovo modo di radicarsi dell'uomo nel proprio terreno. Questo nuovo modo potrebbe addirittura un giorno risultare adatto per richiamare a noi, seppur in forma mutata, il vecchio modo che oggi sta velocemente scomparendo. In tal modo si avvererebbero di nuovo, anche se in modo mutato, anche se in una diversa epoca, le parole di Gioana, Petra, Eben. Siamo disposti o no ad ammetterlo, noi siamo piante che debbano crescere radicate nella terra, se vogliamo fiorire nell'etere e dare i loro frutti. Grazie a tutti.